Architetti e designer si affidano a un'ampia varietà di oggetti basati sulle ultime tendenze in progetti sia residenziali che commerciali per creare progetti interessanti per i loro clienti. Grazie alle grandi librerie di oggetti 3D di Archicad in continua espansione e in particolare i mobili da cucina modulari altamente personalizzabili, è più facile che mai progettare cucine che offrono ai clienti molteplici varianti di design per cui scegliere. I moduli dei mobili da cucina sono rarruppati in base alla loro disposizione spaziale in tre categorie principali base, colonna e pensile. I mobili sono poi ulteriormente rarruppati in diverse geometrie ad esempio elementi a blocco, smussati, di chiusura, AL, AC o AS facilitando la scelta di quello che meglio si adatta al tuo progetto. Ogni elemento è altamente parametrico e contiene un'ampia gamma di componenti personalizzabili come i top, i pannelli e le maniglie. E' facile miscelarli e abbinarli per ottenere il risultato perfetto. Progetta qualsiasi cucina in modo rapido e semplice utilizzando questi mobili parametrici e modulari. Posiziona con semplicità gli elementi, allungali alla dimensione desiderata, quindi personalizza i loro componenti. Sperimenta stili diversi, apporta rapidamente e facilmente le tue modifiche e offre ai tuoi clienti molteplici varianti di design tra cui scegliere. Per saperne di più su Archicad visita graphisoft.com